Associazione Casa del Sole Onlus All in Rock, concerto integrato, Alberto Bertoli Nel Sole 4.0 www.casadelsole.org CDD Centro Accoglienza Alberto Bertoli in duetto virtuale con il padre Pierangelo 20 ottobre 2023, ore 20.45 Teatro Pala Unical, Mantova Il primo in Italia in cui si favorisce l'accesso di cittadini con disabilità plurime che possono scegliere il proprio posto direttamente in platea Concerto integrato Un concerto integrato come risposta al bisogno e desiderio di una reale integrazione tra i cittadini perché non vi sia una distinzione tra persone di serie A e di serie B Siamo Casa del Sole Onlus Realità mantovana che opera con bambini e adulti con disabilità plurime dal 1966 e con questo obiettivo abbiamo ideato l'evento di fine ottobre Un concerto aperto a tutti e in cui ognuno possa trovare le condizioni migliori per esprimere se stesso Oltre a un evento Casa del Sole si propone di tracciare un solco affinché l'accessibilità e l'integrazione siano alla base di ogni concerto, mostra, festival o location Lo sforzo organizzativo di questa data zero è tutto orientato ad affermare che si può fare Per favorire l'accoglienza inclusiva verranno predisposti 1. Una guida ASO, Access Starts Online in collaborazione con la Attitude is Everything, Onlus britannica del settore musicale 2. Scelta libera del posto in pianta per gli spettatori in carrozzina 3. Possibilità di audio guide per le persone cieche in collaborazione con l'azienda Medel di Bolzano già partner di Rai Accessibile 4. Percorsi multisensoriali in cui gli spettatori prima del concerto saranno accompagnati sul palco e potranno vivere da vicino le sensazioni degli artisti 5. Predisposizione di personale medico e paramedico oltre alla possibilità di fornire ausili incomodato d'uso gratuito 5. Durante lo spettacolo Schermo gigante con sottotitoli delle canzoni eseguite sul palco e traduzione simultanea LIS degli interventi parlati 6. Presenza di LIS Performer che renda fruibile il testo delle canzoni ai sordi 7. Zena Vanacore, LIS Performer collaboratore di Rai Accessibilità e impiegato in Sanremo Accessibile Eurovision Accessibile 8. Poltrone o zaini vibranti Sub-Pak che permettono di percepire fisicamente il suono trasferendo le frequenze basse direttamente sul corpo grazie alla partnership con il Festival Oriente-Occidente di Rovereto Trento 8. Stanze Chill Out gestite dai terapisti di stimolazione basale di Casa del Sole ideate per persone con autismo o neurodivergenze in cui poter essere tranquilli e potersi rilassare continuando a seguire lo spettacolo da monitor o cassa musicale 8. Teatro Pala Unical Il progetto nasce dalla valorizzazione della location il Teatro Pala Unical di Mantova scelta in accordo con il Comune di Mantova quale luogo ideale per ospitare il nostro evento l'area di oltre 3.000 metri quadrati ha permesso di progettare ex novo una pianta in cui gli spettatori in carrozzina troveranno posto in platea e potranno scegliere dove collocarsi a fianco del loro accompagnatore la riprogettazione della pianta della disposizione dei posti a sedere e posti carrozzina il nuovo piano di gestione delle vie di fuga e la progettazione degli spazi chill-out sarà a cura del geometra Alessandro Pavesi in collaborazione con l'architetto Mirko Veronesi l'obiettivo è quello di creare un ambiente ordinato e accogliente in cui ogni spettatore veda soddisfatte le sue esigenze e possa godere appieno dello spettacolo Contatti E-mail allinrock-casadelsole.org Whatsapp 0039 32 7 4 5 1 5 4 7 5 Facebook All-Alto In Rock Mantova 2023 Associazione Casa del Sole Onlus Dal 1966 Aiutiamo bambini e adulti con disabilità www.casadelsole.org www.casadelsole.org